Un volo di diversi metri dalla manzarda della sua abitazione a Battipaia nel Salernitano, poi il tonfo sordo e il suo corpo sul selciato proprio davanti alla madre. Un bambino di soli 10 anni si sarebbe lanciato dal secondo piano di casa questa mattina intorno alle 8 e 15. Il bimbo orfano di padre stava andando a scuola con la madre quando con una scusa si è fatto consegnare le chiavi di casa dalla donna per risalire a prendere un quaderno dimenticato. Una volta solo si sarebbe lanciato nel vuoto. La mamma sotto shock ha chiamato i soccorsi, la corsa all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno dove i sanitari dopo aver effettuato un attack total body hanno disposto il trasferimento in eleambulanza al Santo Bono di Napoli. Il bambino le cui condizioni sarebbero gravi avrebbe riportato diverse fratture e contusioni polmonari ma nessun trauma cranico. Mistero sui motivi del gesto che potrebbero essere di natura scolastica ma pare non legati a casi di bullismo. Il bambino frequenta la quinta elementare nella cittadina salernitana. Dalle indagini affidate ai carabinieri di Battipaia sarebbe emersa la presenza di un biglietto scritto dal piccolo per spiegare ai suoi cari quanto stava per compiere. Una vicenda che ha sconvolto la comunità della Piana. I militari sembrano però avere pochi dubbi sulla natura volontaria del gesto.